Ad Andrea continua ad esserci un decremento importante e rapido della popolazione, mentre negli ultimi tre anni i decessi hanno anche superato i nuovi nati. Nel 2002, per avere un riferimento, la natalità era il doppio della mortalità. Sono solo alcuni dei primi dati estrapolati e contenuti all'interno del profilo della salute della città di Andrea, un documento redatto solo nell'anno 2000 e di cui si è tanto parlato negli ultimi anni e nuovamente nell'ultimo periodo. C'è però un nuovo impulso alla realizzazione di questo strumento, grazie al rinnovato accordo con le associazioni che fanno parte del forum Ambiente Ricorda e Rispetta, grazie al lavoro di coordinamento dell'Ufficio Ambiente e dell'ente comunale con il dottor Antonio Berardino, su impulso dell'assessore Savino Losappio, ma soprattutto grazie al lavoro concreto di sei ragazzi del servizio civile che sono impegnati da diversi mesi nell'acquisizione e nella decodifica delle circa 4000 pagine di dati arrivati da tutti gli enti coinvolti. Con le tabelle che vengono realizzate, i grafici che vengono realizzati, abbiamo la possibilità di capire dove dover intervenire, dove le amministrazioni devono intervenire per migliorare la qualità della vita dei cittadini andriesi. Una fotografia della città in tantissimi ambiti, non solo per quello anagrafico. Per esempio in città ci si sposa sempre meno mentre aumentano i divorzi e le convivenze. Ci sono tutti i dati dedicati agli stili di vita della popolazione, con la ASLBT in prima linea, anche con gli aggiornamenti del registro tumori. Documenti che si integrano. Le ludopatie stanno per esempio superando altre dipendenze, mentre un nuovo dato aggiornato sulle incidenze di patologie tumorali ci dovrebbe essere già verso fine mese. Un lavoro di raccordo che si era interrotto a causa del Covid, altro elemento che fa parte dello studio, ma che per fine anno si spera di riuscire a concludere dopo l'accelerazione data a partire da quest'estate. Quando il Covid finalmente ci ha lasciato il campo libero si è ricominciati a lavorare, si sono recuperati tutti i dati e con l'arrivo dei ragazzi del servizio civile che sono arrivati qui a settembre e con l'aiuto delle associazioni che fanno riferimento al forum si è potuto riprendere il lavoro che si sta adesso portando avanti e completando. Allo studio ci sono anche tutti i dati relativi all'ambiente, con aria, acqua, suolo, elettromagnetismo, rifiuti, ma anche le disuguaglianze con i dati economici, l'emergenza abitativa, le infrastrutture e tutti gli indicatori voluti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Noi cerchiamo di rappresentare questa grande mole di dati in grafici, in tabelle, per rendere questo lavoro il più concreto e facilmente rappresentabile possibile. Vogliamo dare un'ottima idea su quello che è il servizio civile universale, su cosa noi facciamo e sugli obiettivi che ci prefiggiamo.